partiti sgabbia in leggero ritardo Honker Bonker in vantaggio Vento d'Oriente davanti a Vistilia Strikeforce, Honker Bonker ricondotto Garanzamir Misaider, Constance Stewart e Sueno del Mar dopo 300 metri di corsa passa Honker Bonker davanti a Vento d'Oriente Vistilia, Misaider Granzamir Strikeforce, Constance Stewart e Sueno del Mar all'inizio della curva in vantaggio Honker Bonker davanti a Vento d'Oriente Vistilia Granzamir, Misaider Strikeforce, Constance Stewart e Sueno del Mar poco prima dell'ingresso indirittura in leggero vantaggio Honker Bonker attaccato all'esterno da Vento d'Oriente seguono Granzamir e Misaider i cavalli entrano indirittura con Honker Bonker all'interno attaccato al centro pista da Vento d'Oriente seguono Perline Interne e Misaider all'esterno Granzamir poi Vistilia Sueno del Mar Strikeforce e Constance Stewart passa Misaider lungo la corda davanti a Strikeforce a centro pista passa Strikeforce davanti a Misaider Granzamir Vistilia in vantaggio Strikeforce davanti a Misaider Granzamir e Sueno del Mar schimper Tack Sch Tack Sch asså�� em 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.